Brugherio è stata un'area in cui storicamente sono stati stoccati anche gas naturali nel sottosuolo della città, in alcuni punti particolari. Di questi pozzi e nei così chiamati ci parla ora il dottor Stodenti. Il campo metanifero di Brugherio è collocato geograficamente tra il territorio di Monza e il territorio di Sesto San Giovanni. In particolare questo campo presentava 16 pozzi dei quali due non sono risultati industrialmente sfruttabili e quattro erano completamente sterili. Questo giacimento è stato scoperto nel 1958 e messo in produzione a partire dal 1961. L'analisi dei dati provenienti dalle perforazioni utili alla realizzazione di questi pozzi ha fornito delle informazioni sui periodi geologici che hanno interessato questa porzione di territorio. In particolare da 0 a 5-600 metri si rinvengono formazioni ascrivibili al Pleistocene, vale a dire un periodo di tempo iniziato circa 2 milioni e mezzo di anni fa. Al di sotto dei 5-600 metri, fino alla profondità di circa 1200 metri, si rinvengono rocce appartenenti al periodo Pleistocene, vale a dire da 2 milioni e mezzo di anni fa a circa 5 milioni di anni fa. Al di sotto dei 1.200 metri di profondità invece si rinvengono le formazioni mioceniche, vale a dire rocce appartenenti a un periodo che termina proprio 5 milioni di anni fa e che è cominciato molto prima. Questa particolare successione stratigrafica ha permesso la formazione di alcune trappole per il gas che sono state individuate a profondità di circa 1.100 metri al di sotto del piano campagna, sotto i nostri piedi. Al prossimo episodio